Posto, fanfara, eh, eh, da Uri Nensi. Fanfara, eh, no. Fanfara, eh, no. Fanfara, eh, no. Fanfara, eh. Gli ultimi dieci anni siamo stati sette volte a Roma per la parata e quando non abbiamo partecipato a questo evento abbiamo sempre suonato per la nostra città nelle stazioni due anni fa a Porta Nuova e quest'anno a Porta Susa Ma si dice fanfara o banda? Allora la dicitura è fanfara della brigata alpina taurinense, in realtà l'organico è quello bandistico a tutti gli effetti si tiene il nome fanfara più che altro per tradizione Questa banda è composta da circa 30 musicisti che sono alpini che arrivano da tutta Italia e da tutti i reggimenti della brigata taurinense abbiamo un repertorio piuttosto vario e quest'oggi ci faremo particolarmente fuoco sulla musica popolare e più fruibile da un pubblico che transita durante il concerto Grazie a tutti!